Descrivimelo. Cosa? Quello che stai guardando, descrivimelo. Il sole che tramonta, il verde delle colline, il cielo blu... No, come se stessi scrivendo. Il sole si accasciò dietro le... Il sole si accasciò? Hai scelto un termine molto poetico, vero? Non riesco a pensare davanti a questo panorama. Jeremy, le parole le possono usare tutti, si chiama parlare. Ma gli scrittori le usano in modo che possano assumere una bellezza e una forma. Pensa alle parole come colori e alla carta come tela. Allora, se pensi che sia così facile, perché non provi tu a dipingere? Scusami, mi rendo conto che non vuoi farlo. Hai ragione. Ma se io dovessi farlo? Probabilmente direi così. Il sole tramonta, dolcemente, infiammando il cielo in ardenti tocchi rossi e arancio. In distanza, nuvole oscure roteano sull'orizzonte, cavalcando i venti dell'estate. Presto il giorno si arrenderà alla notte e a passo di marcia il silenzio avanzerà invadendo ogni cosa. No, non. Non... No, non... No, non.